Gian Lorenzo Blengini, l'Ube che mantiene la vetta della classifica, continua a dettare legge nonostante, te lo diciamo, della prima giornata, continua a cambiare formazioni. Sì, in questo caso noi abbiamo avuto una settimana un po' complicata, non solo per gli impegni ma anche per qualche malessere. Ieri Guantorena, Stancovice e Pesaresi, tanto per dire, per fare degli esempi ma non sono gli unici, hanno avuto dei problemi, non si sono allenati e quindi chiaramente questa volta, oltre alla rotazione di cui abbiamo parlato tante volte, c'era anche un problema da gestire di questo tipo. La squadra però, come sempre, ha dimostrato di saper essere squadra, di sapersi adattare alla partita, di giocare con la voglia di portare a casa il risultato e alla fine c'è riuscita e di questo siamo, come sempre, molto contenti perché il risultato poi alla fine è, al di là di tutto, quello che conta di più. Due dati che ci balzano agli occhi guardando il tabellino. 32 ricezioni di Covar, se non sbaglio con il 41% di Perfetto e Giudi Lee, 12 punti vincenti di Chester, 100% in attacco. Sì, ma io credo un po' tutti hanno fatto una buona prova, abbiamo faticato un po' il terzo set, al di là che l'abbiamo perso perché abbiamo fatto diversi errori diretti, soprattutto in battuta ma anche in fase di difesa e contraattacco abbiamo difeso meno di quello che potevamo e soprattutto quando lo abbiamo fatto non siamo mai riusciti a organizzare il contraattacco o quando lo abbiamo organizzato chiuderlo e quello chiaramente lo paghi perché se a quello aggiungi più errori in battuta di loro chiaramente questo alla fine puoi anche vincere ma si è deciso dal 23 pari, si decide per due palloni però in realtà in quel set lì siamo stati un po' troppo fallosi e lo abbiamo pagato. Nel quarto siamo ripartiti con... non è un problema di abbassamento di tensione, è un problema proprio di equilibri tecnici nel senso che quando fai troppi errori chiaramente è matematico che fai più fatica e quindi questo è il tema. Si chiude la parentesi Superlega, settimana importante perché c'è la Del Monte Coppa Italia. Certo, settimana molto importante che aspettiamo da molto ma in realtà a cui cominciamo a pensare solo da adesso e cominciamo a pensare alla semifinale, semifinale contro una squadra che a me l'ho già detto e lo ripeto a me non sorprende, è chiaro eliminare Perugia a casa sua è un'impresa veramente importante ma lo sarebbe stata per qualsiasi squadra perché Perugia è la favorita del campionato insieme a Modena e quindi insomma poi era sotto 2-0 Piacenza e è riuscita a vincere 3-2. Però è una squadra che io lo dico dall'inizio è allestita per stare con le quattro grandi indicate da tutti ed è una squadra che ha tanta qualità, alternative e una squadra che gioca bene a pallavolo. Buon lavoro.